Gentili telespettatori, buona giornata. Il grande capo del PD, Ellis Line, sguinzaglia gli avvocati. Via, via, andate e recuperate i soldi. Quali soldi? I parlamentari del PD sono morosi. Morosi non è che sono fidanzati, il moroso, la morosa. Sono morosi significa che non stanno pagando. Il proprio partito. Per oltre un milione di euro. Essi intanto nel PD devono eliminare gli sprechi, hanno persone in cassa integrazione, perché il PD sembrava tipo quelle aziende parastatali dove dentro c'erano un sacco di dipendenti. Ora è tutto in cassa integrazione perché il PD. Sono crollati i tesseramenti e non hanno più gli sordi. Mancano gli sordi. E così il piano messo in campo dal PD, Partito Democratico, per migliorare i propri conti relativi all'anno 2022, dopo aver fatto ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, eccetera, si legge infatti che l'intenzione del partito è quella di avere un controllo capillare sulle spese di qualsiasi natura. E' stata nominata così una commissione che si occupa della spending review, la revisione delle spese, dei costi. Però se non la dici in inglese non sei nessuno. Se non parli in inglese durante la giornata non mi parli di team working, se non mi parli di spending review, non sei nessuno. Se di giorno non mi dici qualche parola in inglese ricordati che non sei nessuno. Quindi la revisione dei conti, ma no, spending review, team for two, va bene, comunque, alla fine di individuare questa revisione delle spese, alla luce di uno studio puntuale sui contratti attivi già effettuati, eccetera, eccetera, miglioramento dei servizi, e poi sobrietà, assoluta serietà e sempre nell'ottima ottica della massima attenzione fa sapere che si è attivata contestualmente un'azione di recupero dei crediti verso i parlamentari, non in regola con gli addempimenti previsti dallo statuto. Cosa vuol dire? Tutti i parlamentari italiani, quando ottengono il loro seggio in Parlamento, fanno un accordo col proprio partito. Il partito deve mantenere la sede, la luce, il telefono, il gas, gli impiegati, l'usciere, la macchina, l'autista, l'acqua, il caffè, la macchinetta del caffè, tutta quella roba lì costano milioni. Come si mantiene un partito? O con le tessere, oppure con i soldi che ogni parlamentare dà ogni mese. Cioè, ogni parlamentare, secondo il partito nel quale è, deve dare una certa cifra. Prendono 13.000? C'è chi prende 13.000 e deve dare al suo partito ogni mese 1.000, chi 500, chi 2.000, chi 2.500, chi 3.000, qui 1.800. Ecco, sta di fatto che da un po' di tempo a questa parte i parlamentari e un po' di tutti i partiti stanno cominciando a non pagare più i loro partiti. C'è chi lo fa perché deve cambiare casacca, deve andare in un altro partito, allora comincia a non pagare, quello che va al gruppo misto poi non paga più, quello che dice fra un po' ci sono le elezioni, non mi ricandidano più, io non gli do proprio niente, fatemi causa e poi vediamo, sì sì, fatemi causa, quindi il problema che hanno tutti i partiti, chi più chi meno, è che i propri parlamentari vengono meno a questo accordo dove ogni mese dal loro stipendio devono dare dei soldi al proprio partito. E così la Schlein sguinzaglia gli avvocati perché sono fuori di un milione di euro. Eh sì, versamenti non a posto, per l'esattezza 1.164.736. Perché nella nota, pagina 8, viene proprio indicata la cifra degli eletti morosi, una voce che fa riferimento ai crediti complessivamente vantati dal partito, sia nei confronti degli eletti dell'attuale legislatura che di quelli della precedente. C'è gente addirittura che è stata rieletta dopo che non ha pagato i debiti della precedente legislatura. Scusate cari capi politici, posso dare un consiglio? Posso dare un consiglio alla Schlein, me lo permettete? Scusi Schlein, beh, lei magari non c'entra, ma quando si va alle elezioni politiche nazionali si candidano solo le persone che hanno pagato il partito, un moroso, uno che non ha pagato il partito, quindi l'ha messo in difficoltà, ma non lo candidi più. Oppure gli dici, va bene, vedevo candidare a voi 120, so che di voi 90 non hanno pagato, allora avete tempo ancora 24 ore, chi paga verrà candidato, chi non paga, arrivederci, ci parliamo poi con gli avvocati. Ci vuole carattere, sveglia, sveglia, carattere, no eh, è troppo, è troppo chiedere troppo, comunque. E così, nei confronti di questi ultimi, il partito, dopo tempo, ha attivato 63 ricorsi, a fronte dei quali sono stati emessi 56 decreti ingiuntivi, quindi si va col decreto ingiuntivo del tribunale. Cioè, pensate un po', il parlamentare che è lì, nel tuo partito, e tu gli stai facendo un decreto ingiuntivo per portargli via i mobili, ed è lì, non l'hai buttato fuori dal partito, è lì, ma non ha senso. Ecco, molti di questi casi, puntualizza il tesoriere del PD, hanno a che fare con cifre di lieve entità. Ai parlamentari chiediamo i soldi arretrati, laddove non c'è risposta, si parte con azioni di recupero tramite avvocati. L'ammontare dei crediti verso i parlamentari nel corso del 2022 è aumentato rispetto all'anno precedente, di 349.412. Pensate una cosa, voi dovete dare 2.000 euro al mese, il primo mese non li date, ma poi adesso ho dovuto comprare il nuovo fuoristrada tedesco, aspetta, il prossimo mese, poi il prossimo mese non lo date e avete già 4.000. Al terzo mese dite dovrei pagare 6.000, ma pensa a te, ma stiamo scherzando che devo regalare 6.000 euro. Poi non paghi, diventano 8, 10, 12, diventano 24.000, 30.000, poi uno non li pagherà mai, dice ma è 30.000, gli faccio un bonico, ma stiamo scherzando, con 30.000 ci compro un'altra macchina, no? Quello, no? E quindi poi questi debiti non vengono mai più pagati e questi parlamentari aspettano, dicono ma sì, ma tanto mica mi faranno causa, no? Tanto. E invece poi arrivano le cause. Bene. Perché naturalmente poi i partiti ci pagano anche le spese della campagna elettorale, comizi, aerei, alberghi, microfoni, palchi, strutture, costano, eh? Costano. Grazie a tutti e arrivederci a presto.